automaticamente giro chi è allora io qua vedo un uomo sessuale chi è questo uomo sessuale io vedo una macchina bianca allora c'è l'uomo sessuale che hai fatto con chi non è possibile che il kart maricino che si è calato a nanzati reggi reggi un'altra telefonata non ti sento bene stai con il cedulare e mettiti un posto dove prende e dov'esce enzo chi è il votatore di lavoro è bravo niente reggi un'altra telefonata il kart e gennaro d'auria riscela pronto andrea da dove da milano mi stai seguendo dal sito tre sciopoli solo dal sito di radio camaldoli stereo e ti piace il sito bello ottimo complimenti un ringraziamento scusa un attimo toni un ringraziamento particolare deve andare a ciro amodio che gestisce tutto il sito me l'ha fatto lui prego scusami scusami Gino mi serve un caffè non vai a prendere questo lavoro ma sei proprio lo sito ma buon pasto non ti serve niente